Ricordi almeno come sei arrivato qui? Ero intrappolato, chiuso in uno scatolone. Era buio, poi tutto ha tremato, e poi boom! È venuto giù come la casa nel tornado in quel film con la ragazzina, il leone e l'uomo di latta. Ah! Stai parlando del mago di Oz? Sì, il mago di Oz! E poi la vecchia signora mi tira fuori dallo scatolone e pop! Mi buca l'orecchio, mi trascina fino a una mensola e mi lancia lì. Poi una bimba vuole portarmi via con lei, ma io dico di no! E ora, ora... E ora rischio di restare chiuso qui per tanto, tanto tempo e non posso farlo. Perché... perché... Oh no! Billy è nei guai! Devo trovarlo subito!